Perché è morto Giovanni il Battista? Potremmo rispondere in vari modi a questa domanda, per esempio potremmo dire che è morto perché gli hanno tagliato la testa, e sarebbe una risposta corretta, oppure potremmo dire che è stata colpa di Erode, che si è lasciato sedurre da una ragazza, e per non fare brutta figura ha ordinato la sua uccisione, e anche questo sarebbe vero. Ma se guardiamo alla morte di Giovanni da questi punti di vista, lui fa sempre la parte della vittima, sembrerebbe una persona impotente che ha subito la sua uccisione perché non poteva evitarla. In realtà, Giovanni Battista ha fatto una scelta consapevole che lo ha portato al martirio. Lui non è una vittima, ma è il vero protagonista della storia, perché a differenza di tutte le persone vili e depravate che vivevano nel palazzo del re, lui è stato l'unica persona retta. Giovanni il Battista non è una vittima, ma è il vincitore. Infatti la morte di per sé non è un segno di sconfitta e nemmeno di vittoria, infatti tutti dobbiamo morire vincitori e perdenti. Quello che fa la differenza è il modo in cui si vive, è il modo in cui si muore. Giovanni Battista ci ha insegnato non a rinnegare noi e la nostra fede, ma a essere noi stessi fedeli alla parola del Signore. Questo è l'unico modo per non essere vittime, ma vincitori.